ciao a tutti bentornati sul canale e benvenuti in questo vlog oggi me ne vado un po in giro vado a visitare dei giardini in un posto che si chiama cappel manor e quindi vi porto con me eccoci arrivati questa è l'entrata ci sono i prezzi dei biglietti e questo è l'atrio del di questo cappel manor che è una scuola e qui potete trovare tutte le le materie che vengono studiate vengono studiati i fiori viene studiato come scrivere degli articoli di giardinaggio come curare i giardini e anche come curare gli animali e come curare delle vetrine vedete qua ci sono degli esempi di vetrine con i fiori sono dei vestiti fatti con dei fiori ma sono molto scenografici questa è la piantina di tutto il complesso è veramente enorme ci sono tantissime cose da vedere parto a visitare il piccolo zoo questo è un piccolo zoo con degli animali esotici guardate qua un pappagallo che si fa coccolare perché qui viene studiato i ragazzi studiano anche come curare questi animali molto molto interessante per chi vuole insomma lavorare con gli animali e moderna di zoo e questi sono dei lama ci sono anche lama un lama che si vuole far fotografare sono anche dei piccoli ganguri però fa tanto caldo che sono morti per terra così dormono questo è un giardino in stile giapponese adesso faccio vedere un po di questi giardini curati sempre dai ragazzi della scuola qui uno si può ispirare se insomma avete un giardino e volete cambiare un po il look del design del vostro giardino potete ricorrere a degli esperti quindi venendo qua e chiedete una consulenza oppure date un'occhiata un po in giro e poi cercate di ricopiare questo è un giardino e si chiama giungla poi invece siamo in un giardinetto di una casa magari in campagna è molto bello pieno di fiori qui c'è anche questa fontana e ci sono molte fontane in questi in questi giardini anche l'idea appunto di mettere una fontana particolare è interessante poi c'è questo glicine è bellissimo e sotto c'è una panchina quindi questo perfetto per il relax è bello proprio per avere degli spunti qui invece siamo in una via e in questa via ci sono tutte casette e esempio appunto di vari giardini questo giardino in stile rustico quindi con questo tipo di di vegetazione anche qua c'è questo la panchina date un po come come organizzato ci sono degli ortaggi anche questo invece in stile più mediterraneo infatti c'è la vite c'è la pianta di livo è molto profumato c'è anche del bambù però è molto profumato si sentono queste erbe aromatiche che hanno messo in giro qua nel nel giardinetto noi invece siamo nella così in un giardino vittoriano perché c'è una casa vittoriana e quindi hanno creato questo giardino a tema questo invece è un giardino dedicato alle di Diana ci sono diversi giardini dedicati alla regina la regina madre perché sono venuti anche qua insomma loro a inaugurare questo posto qua c'è un giardino ispirato al Vincent van Gogh infatti è molto provenzale vi faccio vedere quest'altro tipo di giardino che mi piace tanto questo sarebbe il mio giardino ideale così colorato non troppo grande colorato e rilassante lasciamo i giardinetti di casa e adesso ci troviamo qua nel nei parchi questi sono tutti esempi di vegetazione che si possono ricreare appunto all'interno di un parco quindi una villa enorme tutto è curatissimo tutto è preciso e mi piace molto questo laghetto con i suoi fiorellini qua ad hoc e quindi continuo la mia passeggiata e qua sono all'interno di una sorta di bosco a boscaglia anche questa accuratissima nei minimi dettagli quindi si vede che niente è lasciato così al caso eppure al primo sguardo non sembra che ci sia la mano dell'uomo dietro questo spettacolo naturale qua siamo in un'altra parte del giardino dove ci sono c'è anche un labirinto io ho fatto anche il labirinto ma non ve lo faccio vedere per sempre far vedere le mie avventure nei labirinti ma stavolta sorvoliamo comunque un labirinto molto carino perché poi dal centro potete vedere tutti i giardini quindi questo è un giardino aromatico qui ci sono anche delle piante profumate profumatissima e c'è la serra io sono sempre attratta dalle serre devo sempre entrare a vedere la serra mi piacciono le serre e in questo posto comunque in questo in questo castle manor ci sono tantissime iniziative durante tutto l'anno ci sono anche degli show non so dei cavalli degli automobili poi anche a natale organizzano degli eventi quindi se vi interessa ci sono poi durante l'estate c'è anche lo show dei bonsai oppure c'è lo show dedicato ai picnic date un'occhiata al loro sito e troverete altre notizie questo invece è un giardino qua con dei ruderi quindi come organizzare in un giardino la vegetazione intorno a questi ruderi e questo è un giardino dedicato alla regina e quindi niente io continuo a esplorare questo giardino mi sto rilassando tantissimo qui in questo periodo il tempo è proprio bello è un'estate eccezionale e quindi niente spero di avervi fatto vedere qualcosa di nuovo di interessante se siete da queste parti e vi piace la natura oppure dovete cercare così un'ispirazione per organizzare il vostro giardinetto non vi dimenticate di passare di qua se il video vi è piaciuto lasciatemi un like iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e se mi lasciate un commento vi risponderò così chiacchiereremo un pochino io vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao e buona estate a tutti ciao ciao ciao